Innanzitutto del corso mi è piaciuto il gruppo e l'unità che si è creata, io sono molto legato ai rapporti che nascono al di fuori di un contesto, nel senso il contesto che porta al di là dei risultati che si possono ottenere o meno, a me piace sempre conoscere tanta gente, sono anch'io che conosco sempre gente, però questo è un bel contesto, un bel gruppo che crea una bella energia. Lo consiglierai per il semplice motivo che ho visto testimonianze vere e sentite di persone che hanno trasformato la propria vita, diciamo che io mi sento in un passo iniziale di percorso dove sto come un bimbo che sta conoscendo un mondo nuovo e quindi devo ancora scoprire, esplorare, tutto, però vedo anche che altre persone comunque sono propense anche a supportare e a farti capire che comunque ti possono anche aiutare a trovare la tua strada, sempre rimanendo nel contesto di prima del gruppo, di questa energia che si crea. La ringrazio perché comunque mi ha dato modo anche di scoprire tante cose che già conoscevo, o se quelle cose che sono già dentro di te, che magari non accetti, o che cosa, avermi dato l'opportunità praticamente di capire che c'è una possibilità di dare una, chiamiamola una svolta alla propria vita, però chiaramente ringrazio Patrizia, però devo anche metterci del mio, diciamo. Grazie. 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 Grazie.